ciao a tutti benvenuti nel mio canale le ricette di franci 74 oggi prepariamo insieme una focaccia di patate croccantissima oggi prepariamo una focaccia semplice semplice croccantissima con patate e rosmarino vedrete che sarete assolutamente soddisfatti ora vi faccio vedere gli ingredienti e come si preparano ecco i nostri ingredienti ci occorreranno 800 grammi di patate 240 grammi di semola rimacinata 240 grammi di farina zero 220 grammi di acqua 20 grammi di olio extravergine d'oliva 15 grammi di sale 50 grammi di pan grattato e altro olio extravergine d'oliva per ungere la teglia e poi ci occorrerà del rosmarino cominciamo subito la nostra preparazione la nostra focaccia di oggi è una focaccia veramente semplice come vi dicevo senza levitazione risulterà un po bassa veramente però molto croccante ora prendiamo le nostre patate e le togliamo appunto la buccia e peliamo quindi ho tolto la buccia dalle patate adesso dobbiamo tagliarle a fettine sottili possiamo farlo in due modi o con una mandolina se ce l'abbiamo in casa oppure magari con il robot da cucina in questo in questo caso io ho il double force della moulinex anzi vi ricordo che avevo fatto una video recensione e quindi sul mio canale trovate anche il video vi lascio il link in descrizione e in questo caso quando utilizziamo il robotino mettiamo il disco con la lama io ho messo quella più sottile perché ce ne sono due ok quindi la posiziono inserisco anche il coperchio e poi vado a mettere appunto le patate ok 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 come vedete con il double force ci si impiega veramente veramente pochissimo ora vi faccio vedere lo spessore delle patate quindi uno spessore veramente molto 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 sottile ok ora prendiamo un'altra ciotola abbastanza capiente e qui ci setacciamo le farine quindi passo a setacciare la semola rimacinata la farina zero ok ok adesso con un cucchiaio le mixiamo per bene uniamo quindi anche l'acqua l'olio e 15 grammi di sale andiamo a amalgamare per bene dunque c'è da fare una piccola precisazione per quanto riguarda le farine non tutte le farine sono uguali hanno infatti un assorbimento tutte quante diverso un assorbimento parlo dell'acqua ovviamente quindi vedo che le mie farine hanno assorbito quasi tutta l'acqua infatti io andrò a mettere un altro po' d'acqua perché devo avere un altro tipo di consistenza vi faccio vedere qual è praticamente io devo avere una consistenza piuttosto morbida quindi quindi perché le patate appunto una parte delle patate le devo mettere appunto qui dentro aggiungiamo un altro po' di acqua allora questa è la consistenza che ho ottenuto io ho aggiunto per le mie farine altri 100 grammi di acqua quindi partiamo da 230 220 grammi di acqua per poi aggiungerne e potete avere appunto questa consistenza qua allora prendiamo le patate e ne mettiamo una parte in questo impasto quindi amalgamiamo per bene come vedete qui di fronte a me ho una teglia che ho già cosparso con un po' di olio extra di argine d'oliva lo vado a spennellare per bene deve essere proprio bella unta mi raccomando ne aggiungiamo un altro po' ok ok se vi interessa trovate tutti i link di tutti gli attrezzi che io uso tipo per esempio il pennellino oppure il pela patate insomma quello che io sto utilizzando vi lascio il link in descrizione allora adesso mettiamo il nostro composto direttamente nella teglia mi invito con una spatola lo vado a livellare risulterà una focaccina bassa e croccante ok fatto questo adesso mettiamo le patate che ci sono rimaste tutte quante sopra così quindi non appena abbiamo ricoperto tutto l'impasto con le patate rimanenti andiamo a mettere un altro po' di olio extravergine se vogliamo possiamo aggiungere anche un pochino di sale un po' di rosmarino e un po' di pangrattato adesso non ci resta che impornare la nostra focaccia ad una temperatura di 250 gradi modalità ventilata per circa 45 minuti terminata la cottura ho lasciato intepidire la focaccia circa 15 minuti e poi l'ho poggiata su questo tagliere ora vi voglio far sentire come croccante come sono croccanti le patate è tutto un programma insomma sono ben cotte come piacciono a me io voglio farvi vedere come si presenta questa bella focaccina vedete? è super croccante fuori e morbida dentro io la provassaggio e la faccio ora mamma mia è buonissima è ben cotta è veramente buonissima è semplicissima poi mmm buono quindi se vi è piaciuta questa ricetta di questa magnifica focaccia patate rosmarino croccantissima senza lievitazione ci vogliono veramente pochissimi ingredienti e pochissimi minuti per prepararla fate un bel like mi raccomando venitemi anche a trovare sui miei social che sono facebook, instagram e twitter se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanella di notifica così non vi vedete nessun video venite a trovarmi sul mio sito internet che è www.lericette.frances74.com e mi raccomando non perdetevi il prossimo video io vi aspetto eh ciao 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 ciao